L'Open Night è un evento che abbiamo pensato per presentare il corso serale del Santa Marta, si terrà il 24 maggio dalle ore 19 presso i nostri locali in sala ristorante. È aperto a tutti i maggiorenni, sia chi non è diplomato, sia i diplomati, sia i laureati, ma anche i pensionati che hanno piacere o passione per la cucina e vogliono cimentarsi con questo percorso che comunque permette il conseguimento di un diploma alla fine dei tre anni. Partirà a ottobre, quindi dalla durata da ottobre a giugno, dalle ore 18 iniziano le lezioni fino alle 22 circa, dal lunedì al venerdì. L'anno precedente abbiamo provato anche la modalità e-learning per due volte a settimana, è stata un successo soprattutto per garantire ai lavoratori o alle mamme di poter partecipare alle lezioni. Quindi vi aspettiamo il 24 presso il nostro istituto.